ciao a tutti ragazzi ben ritrovati qui sul mio canale pepecepp93 mi sono spiegato da poco e volevo raccontarvi una cosa no praticamente ho aperto facebook poco fa e ho visto una cosa e mi ha venuto in mente di volervi raccontare questa cosa ma era già da molto tempo che voleva raccontarla sta cosa vabbè e quindi muove la racconto praticamente allora io mi ricordo che un po di tempo fa in napoli stava trattando ma molto tempo fa praticamente forse sì moltissimi anni fa non ricordo esattamente quanti anni fa però in napoli stava trattando l'acquisto di bledding bledding gemaili il giocatore che ora è in forza al bologna e vi ricordo che comunque si faceva un gran parlare di questo giocatore c'è ancora oggi comunque a lasciare il segno a napoli no veramente è stato un giocatore utile e molto importante e comunque alla fine il napoli stava trattando l'acquisto di questo giocatore che comunque è di e di nazionalità svizzera no per chi non lo sapesse è comunque e ricordo che comunque lui giocava a parma ed era un ottimo giocatore soprattutto aveva sempre il tiro da fuori aria mi segnava spesso ma ancora oggi no lo vediamo ancora molto e comunque sì in napoli comunque aveva già aveva già nelle sue fila in l'air e poi sono un giocatore pure per ami però comunque aveva in l'air comunque che anche loro sia il che per ami sono comunque anche loro svizzero con noi a noi ci serve solo in l'air ma non perché per ame nerburgo perché per questa storia qua si serve solo in l'air che anche lui era svizzero può può essere perché mi sto imbruggiando però comunque alla fine quella il senso è sempre quello ok allora che succede che in napoli provate ad acquistare questo giocatore e comunque era il periodo estivo no e io comunque c'è io ero come si dice arrapato di napoli no di c'è di calcio no io mi ricordo che mi guardavo tutte le trasmissioni sportive che parlavano dei ritiri del napoli dei trattativi trasferimenti mi ricordo che tipo partivo da canale 8 se canale no canale 21 televomera telecavi sport più n tele a tutte le nuove tutto quanto comunque c'era pure su tutte le capi sport che tipo alle 6 di sera faceva tipo uno sportello come si fa quelle tipo quelle cose filo diretto con dove tu potevi scrivere la tua domanda su facebook sotto a un posto come commento e stava questo presentatore che se eri fortunato che leggeva il tuo il tuo commento il tuo posto il tuo messaggio lui diciamo ti rispondeva no allora che feci siccome io stavo arrapato no sto fatto che un napoli se stia cattano a temale garante era un grande giocatore comunque il napoli non era proprio ancora una grandissima squadra no cioè era una buona squadra ma ecco io pensi e scrissi scusate ciao ma il nome di questo non voglio dirvelo perché è proprio là la cosa comunque praticamente io scrissi ciao voglio sapere il napoli se può acquistare dei mali e se possiamo sfruttare il fatto che ci sia anche inglese c'è se inglese può convincere dei mali a a venire a napoli ovviamente perché il re dei mali erano entrambi svizze e così io scrissi questa cosa e io ebbi la fortuna che lui diciamo lesse questa mia questo mio commento e lui fa ma no ma non credo perché ma non pensare che siamo tipo sui campetti di provincia dove io inviti il mio amichetto a venire con me a giocare nella squadretta qua stiamo parlando di napoli di champions league e comunque non succedono queste cose come tu puoi immaginare no qua sono professionisti io mi ricordo che quando il napoli ha costato i mali la prima c'è la sua prima dichiarazione fu io sono venuto qua perché inglese me ne ha parlato molto bene questo mondo qui proprio perché c'è inglese proprio la sua prima di una delle sue prime dichiarazioni cioè proprio quindi capire comunque poi vi dico che questa persona qua che lavorava a telecappi sport ehm l'ho visto tipo qualche anno dopo qualche anno dopo lavorare nella società dell'utinese calcio e quindi io e quindi capisco è stato simpatico comunque aver no smerdiate però comunque aver avuto ragione no cioè uno dice ma guarda che subito ha detto no 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 e io comunque alla fine ho avuto ragione ah niente volevo dire questa cosa così giusto per farvi divertire proprio perché volevo immortalarla questa cosa prima che poi cioè comunque poi va a finire che uno possa essere scorto no invece così non mi posso mai discutere ma può essere che poi ho fatto una razzatura comunque non vi dico chi è però però vabbè tipo potreste anche capire perché alla fine l'ho fatto questo giorno qua ed è un giorno particolare no non lo voglio dire non lo posso dire non lo posso dire non lo posso dire eh vabbè niente eh ciao cioè io non lo dico proprio per correttezza perché comunque alla fine è un gioco eh sì non lo sto facendo per prendere in giro lui eh è proprio perché quella volta che io mi è una cosa simpatica no alla fine eh vabbè niente eh ci vediamo allora forza Napoli se si resta alla Juve e speriamo che cosa vanno buone e ciao 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 ciao